ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro ara e benvenuti in questa doppia recensione in cui andremo a vedere il nuovissimo the batman per la linea dc multiverse prodotta da mcfarland toys accompagnato dalla sua moto ragazzi si pronuncia una recensione succulenta prima però volevo ricordarvi che domani sabato sarò al napoli comic con tutta la giornata credo quindi se volete fare un salto mi trovate lì in giro e in occasione del napoli comic con attenzione metterò la spedizione gratuita per tutto il weekend quindi da oggi fino a domenica sul sito per qualsiasi ordine ragazzi qualsiasi ordine quindi è come se fosse in fiera anche se non ci potete andare ordinando dal mio sito non avete spedizione quindi qualsiasi cosa sarà spedita gratuitamente quindi approfittatene assolutamente allora vediamo le confezioni questo qui è il batman la solita confezione di simultiverse nulla di incredibile da vedere comunque abbastanza compatta ed elegante in realtà sul nero e poi abbiamo la moto eccola qui molto molto figa questa confezione vedete anche questa abbastanza compatta qui fa vedere le altre figure disponibili ma direi di non perdere altro tempo su queste confezioni andiamo subito a vedere le nostre figure fuori da essa ed eccoci qua ragazzi prontissimi andiamo comunque a vedere subito gli accessori in generale questi qui sono quelli contenuti in batman ovvero la solita card la basetta nera molto semplice poi abbiamo per batman questo spara rampino eccolo qui tutto nero con questo peg e poi abbiamo invece questa mano vedete intercambiabile che però attenzione era presente nella moto questa non è presente in batman quindi se volete questa mano è presente se acquistate la moto e poi abbiamo naturalmente la card della moto ma appunto andiamo a vedere la moto che è dotata di quest'altro accessorio vedete ecco qua questa piccola basetta da mettere sulla ruota per reggerla in piedi perché senza non ha modo di reggersi in piedi a meno che chiaramente non ci posizionate sopra batman comunque vediamo questo gran bel pezzo di veicolo ragazzi perché è fatto veramente bene ecco qua queste sono le ruote in gomma rotanti poi abbiamo come vedete un sacco di dettagli di pittura ovunque è tutta sporcata non è assolutamente piatta fantastico l'effetto qui sulle marmitte vedete tutti i pezzi del motore un motore bello potente ovviamente qui c'è la ruota di dietro anche questa è rotante in gomma e abbiamo il sellino comunque di un colore leggermente differente dalla moto si vede benissimo e vi faccio vedere anche l'altro lato qui ci sono altre marmitte ulteriori insomma ragazzi veramente una moto fighissima devo dire la verità con questa parte che appunto ricorda diciamo le orecchie le corna da pipistrello veramente mi piace un sacco come hanno realizzato questa moto per il film chiaramente questa parte si può ruotare in questo modo per il resto per la moto non c'è in realtà altro da vedere naturalmente dopo vedremo come sta batman sopra fatemi posizionare la basetta eccoci qua ed ecco la moto appunto posata e si regge in piedi ma adesso spostiamola e focalizziamoci sul nostro batman ed eccolo qua ragazzi cambio di inquadratura zoomino sul volto e devo dire che la realizzazione del viso è fatta veramente bene la parte appunto scoperta ricorda molto la mascella diciamo la bocca di pattinson ma gli occhi sono fatti veramente bene e la cosa che mi piace di più in realtà è proprio questo sguardo che non è centrale ma guarda verso un lato non è un errore chiaramente di questa figure ma tutte sono fatte così col batman che guarda verso un lato secondo me è figo lo dovrebbero fare con più figure perché dà un po più di vita secondo me al viso veramente ben fatto veramente figo anche il painting qui molto bella la sporcatura le labbra anche dipinte alla perfezione devo dire tra l'altro con del painting lucido al contrario del resto del viso il cappuccio fatto molto bene si vedono anche tutte le cuciture e qui vediamo il resto del costume anche questo veramente molto ben realizzato qui vediamo il mantello in plastica comunque super morbida in realtà che poggia appunto su questa parte centrale allora se lo di mantello ragazzi vi do un piccolo suggerimento che molto probabilmente attuerò io stesso ovvero sostituire il mantello si può fare naturalmente acquistando un pezzo di stoffa similpelle e modificando ma c'è un modo più semplice ovvero acquistare la bendable figure chiaramente anche questa la trovate disponibile sul mio sito e come vedete ha il mantello in tessuto quindi si può rimuovere da qui e mettere magari su questo batman per il resto vediamo i dettagli appunto del costume ci sono un sacco di dettagli in realtà gli spallacci queste parti qui agli avambracci tra l'altro curiosità io non ho capito l'utilità di queste di queste parti che ha all'avambraccio le ha mai utilizzate nel film me lo son perso io non mi ricordo assolutamente comunque abbiamo questi spuntoni e sono morbidissimi la cintura piena di gadget sul retro vediamo comunque ulteriori dettagli per la cintura vediamo anche lo scalp dell'armatura e vediamo anche le gambe comunque anche queste molto ben realizzate devo dire per concludere abbiamo gli stivali vedete con questa parte nera più lucida e poi le scarpe con colore leggermente diverso proprio a sottolineare comunque si tratta di due pezzi diversi ovvero degli anfibi coperti poi da delle parti simili l'armatura diciamo comunque ragazzi andiamo a vedere le articolazioni di questo batman abbiamo a testa e può guardare verso l'alto in questo modo qui potevano fare leggermente meglio verso il basso in questo modo qui movimento laterale in questo modo rotazione laterale ovviamente l'apertura del braccio a 90 gradi figata il fatto che ci sia questa spallina in plastica morbida che appunto non limita l'attivazione ma la segue perfettamente veramente ben fatta abbiamo una sorta di butterfly joint comunque all'interno in su e in giù e anche in avanti e indietro rotazione naturalmente al bicipite chiaramente il braccio fa il 360 c'è il piegamento al gomito pazzesco ragazzi a dir poco piegamento al polso rotazione al polso in mezzo busto abbiamo movimento in avanti e all'indietro finalmente hanno leggermente migliorato questa articolazione al busto anzi non leggermente guardate qua che bel movimento all'indietro che fa e in avanti invece c'è il movimento però comunque un po' limitato il più lo fa all'indietro c'è la rotazione in questo modo qui il movimento laterale tra l'altro da sottolineare questa parte superiore è fatta in plastica morbidissima quindi per non limitare le articolazioni peccato non si stacchi qui il batarang rotazione chiaramente anche alla vita abbiamo il piegamento della gamba in avanti praticamente 90 gradi piegamento all'indietro anche questa parte in plastica morbida per non limitare le articolazioni l'apertura laterale praticamente massima rotazione qui alla parte superiore piegamento doppio al ginocchio anche abbastanza bello da vedere dato che questa parte è fatta in armatura e in plastica morbida figata questa queste parti morbide che hanno adottato su questa figure e poi abbiamo anche il piegamento del piede in giù piegamento del piede in su rotazione in questo modo rotazione anche laterale della caviglia e il piegamento alla punta del piede e ora ragazzi è arrivato il momento di prendere un po' le misure il nostro batman è alto praticamente 18 centimetri quindi 7 pollici e mezzo e invece la moto misura praticamente una 24 centimetri diciamo 25 anzi praticamente 10 pollici quindi bella grande ovviamente ed eccoci qui al confronto più classico ovvero il nostro batman con il locus super seian 4 stage figures e il mitico monnezza spider nel marvel select o ed eccoci qua ragazzi con il nostro batman che girella in allegria sulla seta rotante in sera la sua moto e diamo un po' i voti allora per continuare dagli accessori vado un 6 a sufficienza sono proprio lo stretto indispensabile per quanto riguarda le articolazioni mi hanno sorpreso molto riguardo batman chiaramente sto parlando di batman molto figo il fatto che la spallina soprattutto segua perfettamente la spalla anche il busto hanno migliorato l'articolazione qui mi sento di dare un bel lotto per quanto riguarda l'estetica devo dire che rispetta abbastanza bene il batman visto del film chiaramente ci sono delle leggere imprecisioni qua e là ma nel complesso devo dire che è un'ottima rappresentazione di quel batman e comunque anche il mantello non mi dispiace in realtà pensavo fosse più rigido invece la plastica è molto morbida come vedete poggia anche abbastanza bene sulla moto anche in maniera abbastanza naturale e anche il batman stesso sulla moto la cavalca anche in maniera abbastanza naturale chiaramente si può posizionare anche un po' meglio volendo per quanto riguarda la moto ragazzi l'estetica è pazzesca fatta veramente benissimo mi piace un sacco anche le sfumature ci sono quella quindi estetica generale devo dare anche qui un otto pieno secondo me hanno fatto veramente un bel lavoro e quindi nel complesso ragazzi do il voto diciamo al set o anche alla sola figure di batman per me qui è tutto da otto pieno veramente un bel lavoro da parte di mac farland toys perché comunque ci dà una figure che rappresenta molto bene comunque il batman però ad un prezzo veramente contenutissimo così come anche la moto che è un accessorio chiaramente in più ma che veramente fa scena molto molto bene con questa figure ragazzi fatemi sapere se siete d'accordo con me con il voto o fatemi sapere appunto il vostro parere su questa figure sul film magari con un commento qui sotto ricordatevi che da oggi fino a domenica è attiva la spedizione gratuita per tutto quello che ordinate sul sito detto questo ci vediamo magari al napoli comic con ciao d'ara da the batman con la sua moto e con le azionate sempre grazie a tutti